Il primo giorno che mi sono svegliata dopo l'operazione ho detto che figata, nel senso che bello, sto qua ancora 5 minuti e poi mi svegli. Mi chiamo Noemi, ho iniziato a portare gli occhiali quando avevo 8 anni, ora ne ho 28 e quindi proprio 20 anni dopo ho deciso di dire basta al portare le lenti e a portare gli occhiali. Questa decisione ce l'ho in mente da quando ne ho 16, 17 di anni. Per me portare gli occhiali era proprio un disagio anche comunque estetico perché con le lenti un pochino spesse i miei occhi diventavano diciamo leggermente più piccoli. Mi piacciono i miei occhi, il fatto di doverli nascondere dietro gli occhiali appunto mi dava fastidio perciò poi ho iniziato a portare le lenti anche per quelli che i miei occhiali non tolleravo più. Anche perché la mia pia non era leggera, mi stimatismo poco ma la mia pia non era leggera e quindi le mie lenti dovevano essere comunque spesse e anche la montatura non poteva essere tra quelle che a me piacevano. Quindi non ero per niente contenta degli occhiali. Ho iniziato a portare le lenti a circa 18 anni e da lì quindi per dieci anni non ho mai avuto problemi con le lenti quindi avrei potuto tranquillamente continuare la mia vita con le lenti a contatto ma io non ne potevo ogni anno comunque facendo i miei controlli e c'era sempre qualcosa che cambiava. Quindi non potevo diciamo accedere anche solamente a chiedermi ma domani cosa andrà a fare la vista per l'operazione ma no. Pian piano come dire mi sono decisa sentendo anche altri populisti rispetto a mio e mi hanno detto guarda se fra un anno la politica non ti fanno più o non ti giocerà secondo me è un'ottima idea. Anche perché prima la fai e meglio è comunque poi te la godi di più giustamente. Sono arrivata anche un pochino spavaglia ma questo è un po' il mio carattere nel senso ci sono altri problemi questo per me non era un problema perché era veramente una liberazione. Sono arrivata serena anche per te in un contesto me l'ha comunque permesso perché non posso solamente lamentarmi né delle mie ragazze che mi hanno accolto che mi hanno fatto le visite all'inizio né del dottore che comunque mi ha subito messo a mio agio anche quando poi sono andata in sala operatoria con gli altri ragazzi. Io ho fatto l'intervento l'asi quindi è un'operazione che il giorno prima ti opero e il giorno dopo tu vai a fare la tua visita di controllo io sono venuta da sola. Ho preso la mia metro con i miei occhialetti da sole e poi sono andata in corso Vercelli. Il mio consiglio è nel senso che a parte che non ci sono aghi io ho la fobia assoluta degli aghi quindi andare in ospedale queste cose qua non mi sarei fatta diciamo probabilmente toccare il posto. Quindi nel senso la vita dopo ti sembra veramente molto più facile da gestire a un'età come dire sotto i trent'anni come la mia non farla potendola fare perché se non la può fare non mi spiego proprio il motivo per cui non farla. Come dire una volta potrò diventare una vita, devi fidarti di chi poi ovviamente va a lavorare sul tuo si può dire tra virgolette e questo io l'ho trovata. Io mi sono fidata perché mi sono trovata fiducia anche dall'altra parte in me nel senso tranquillità. Per me un aneddoto classico è io bevo il tè con l'immuna la mattina, una mattina evidentemente non mi sono lavata bene le mani, mi ho messo sulle lenti, gli occhi hanno iniziato a diventare un c'è come il porto per un cibo e non riuscivo a dire a priori. Pensate che non ho più questi problemi che non mi sono lavata bene le mani, non ho tolto bene la crema che avevo sulle mani per me li mettere in mente e quant'altro. Alla sera guardare la televisione e potersi mettere giù sul cuscino e dire ah la vedo, perché devo tenere sugli occhiali, non ho la lente che mi dà fastidio, cioè ci impagarmi una cosa a leggere.